Cosa devo portare a trasformazione o chiusura nella mia vita? Questo è il quesito suggerito dall'arcano della settimana, ovvero l'innominato. Avevamo detto ieri che potrebbe essere una fase, un aspetto, un momento della nostra vita in cui dobbiamo cambiare, trasformare o chiudere qualcosa per permetterci poi di avere la possibilità di aprire qualcos'altro. È tempo di lasciarci alle spalle il passato. Questo ci dà l'occasione di abbracciare le infinite possibilità del futuro. Questo non significa che andrà tutto bene, significa che avverrà un sentimento di paura, una combustione all'interno dentro di noi, bruceranno tante cose, un po' con passione, ma anche molte con un terrore atavico, quindi una serie di emozioni anche contrastanti che potrebbe bloccarci in questo processo di trasformazione. Tuttavia l'invito è quello di non lasciarsi fermare, stoppare, ma continuarlo, mandarlo avanti proprio perché l'eliminazione di fattori limitanti nella nostra esistenza ci permette di aprire la porta a esperienze di vita più ampie e più soddisfacenti. E allora la domanda è cosa devo portare a trasformazione o chiusura nella mia vita. Un tiraggio eseguito con tutto il mazzo, tutte le 78 carte, infatti vediamo comparire 10 di denari, eremita e re di coppe. La cosa molto interessante è che questo eremita anche la scorsa settimana era comparso ed era comparso in seconda posizione. Quindi per un tarologo un po' più esperto questo punto di vista, questa carta, questa sincronicità deve essere notata. Ma all'interno di questo tiraggio possiamo dire che il 10 di denari rappresenta la fine di un percorso, la fine di un ciclo puramente materiale, tangibile, che muove delle energie pratiche. Ogni volta che arriviamo al 10, arriviamo ai 10, denari, coppe, bastoni, spade, indipendentemente dal seme, significa che abbiamo sviluppato quasi completamente quel percorso. Quindi trascendiamo le carte di corte. Ovviamente il 10 di denari è un percorso materiale. L'eremita si contrappone a questo stato di cose avendo quest'uomo trasceso la materia. Infatti si rapporta alla materia in un modo un po' particolare, con una consapevolezza particolare. Cioè la persona che effettivamente ha chiuso, ha finito un percorso e lo rivaluta, ma sa anche che non può rimanere ancorato a questo stato di cose. Infatti cerca di fare luce su questo 10 di denari, ma su un percorso che fondamentalmente è già finito. Allora bisogna staccarsi, trasformare il senso di sicurezza dato dalla materia e diventare un re di coppe. Quindi un uomo che poggia i suoi valori sulla generosità e sul cuore. La cosa fenomenale è che sia i denari che le coppe sono due semi ricettivi, ma uno, i denari, rappresenta l'aspetto materiale, mentre le coppe rappresentano l'aspetto spirituale della ricettività. Inoltre il passaggio dall'eremita al re di coppe non comporta necessariamente uno svecchiamento interiore, ma se ci fai caso comporta un guardare al futuro, perché l'eremita si va ad incancrenire sul far luce ad una situazione passata. Quindi è questo 10 di denari che, ripeto, non può più dare niente. Poi ricordo anche che l'eremita è l'uomo che continua a permanere all'interno di un ciclo, anche se dovrebbe chiuderlo. Il re di coppe invece guarda al futuro. Ha anche lui un passato, perché la coppa che ha in mano è sfalsata sul punto dove la tiene, quindi questo cuore è un po' rotto. Ha avuto le sue esperienze e la sua dose di dolori e di ferite. Ma guarda al futuro perché come un processo alchemico è riuscito a trasformare la materia in amore, la pragmaticità in sentimento. E questo è quello che il tiraggio della settimana ci vuole dire. Prova anche tu a fare un tiraggio per mezzo del tuo metodo di lettura preferito, oppure se non sai nemmeno dove passano di casa i tarocchi puoi andare nell'info box dove troverai un link per fare un tiraggio gratuito di tarocchi dove ti uscirà la spiegazione delle carte estratte, ma anche la possibilità di cliccare su ogni singolo arcano per approfondirlo in modo atomistico. Buona settimana!